Quella che vedete è una simulazione reale del numero dei satelliti orbitanti attorno alla Terra. Ebbene, reale un cazzo. Se davvero fossimo avvolti da un tale mondezzaio, il 20% subirebbe incidenti di traiettoria ogni 20 minuti, ed un altro 15% a contatto con la termosfera, che supera i 1000 gradi, vi ricordo che l'alluminio fonde a 660 gradi, cadrebbe giornalmente tipo stella cometa. Ma soprattutto sarebbero visibili tutta questa ferraglia, dove, ufficialmente sono circa 20.000, i satelliti in orbita. Personalmente, osservo il cielo da anni, e puntando la Luna per giorni, mi sono chiesto, perché non vedo passarne almeno uno. Con uno scarto di 4 km al secondo, un passaggio durerebbe qualche minuto. Quindi, dove sono? Secondo la US Geological Survey, il 90% della connessione mondiale proviene da milioni di miglia di cavi di fibra ottica adagiati sul fondo degli oceani, e quasi la totalità dei ripetitori GPS sono a Terra, funzionanti attraverso la triangolazione. Tra l'altro, agevolata dalla non sfericità della nostra sezione. Vi dico com'è andata? Nel 1945, Arthur G. Clark, autore di fantascienza, disse alla rivista Mondo Senza Fili che il futuro sarebbe stato satellitare, ed ecco che la NASA mangiò la foglia, lanciando il suo primo falso satellite geostazionario nel 1965. 65. 65. 65. 65. 65. Grazie a tutti.